Avete mai cercato l'oro in un fiume? Io sì. Quello che succede quando setacci è che raccogli sassi, sabbia e poi a poco poco, passando l'acqua e giocando con la ciotola nella quale hai raccolto il greto del fiume, pulisci via via, l'acqua porta via prima i sassi più grossi, poi i quali medi e poi la sabbia e poi gli ultimi residui fino a quando rimani, se sei fortunato, qualche scaglietta d'oro. La metafora è che l'oro è molto raro, per cui se tu ti trovi in minoranza, cosa ardua da reggere potrebbe essere che tu appartieni a quelle scaglie d'oro all'interno della terra. Riconosci quindi l'oro che sei, l'oro che hai dentro. Riconosci l'oro che ti fa aderire a ciò che senti e credi, anche se sei in tempi difficili, anche se tutto ti si stringe intorno, perché è sempre così. Se vuoi essere o se pensi di essere sasso, non hai questo problema, così com'è la famosa fiaba del butanatroccolo, piuttosto che la metafora della nascita, no? Tutto si fa buio e stringe, e stringe, e stringe, sempre di più sembra di non avere scampo. Se tu potessi pensare, in momento a cui stai nascendo, ti diresti, oddio, ma non ci sarà via di scampo, cosa succederà? cosa succederà? Tutto si stringe, tutto è buio, fa male. Sembra che questi tempi, così come ogni tempo di appuro, si direbbe in Brasile, è tempo di appuro, è tempo di appunto setacciare e lasciare fuori solo loro, in tempi di questo genere. Succede questo, succede che il tuo oro, il tuo essere oro, ti mette in una condizione di minoranza, oppure ti chiede, lascia tutto e seguimi, lascia tutto e seguimi. Che cosa stai portando con te? Cosa stiamo portando con noi in questi momenti che ci sembrano così drammatici? Se guardiamo le notizie, se leggiamo i giornali e i telegiornali, ci sembra che tutto vada in una direzione che non lasci scampo. E che cosa ci fa in realtà paura? Gli attaccamenti. Non è certo l'oro che è dentro che ti fa paura. Quindi riconosciamo il nostro oro e attraversiamo le strettoie, attraversiamo i setacci. riconosciamo che il mondo sta semplicemente creando le condizioni per la purificazione. Non è tanto una fantasia questa, non è un'illusione dei perdenti. Questa è la tua sfida. Guarda la metafora dell'esistenza. Guarda in natura. Ovunque intorno a te ti viene insegnato che per estrarre l'oro, per nascere, per venire dalla luce devi passare attraverso una qualche forma di selezione e di strettoia. Quindi rallegriamoci, no? Quello che ci fa paura è ciò che va lasciato. Quello che manca è dentro di noi che altro.